Il Teramo potrebbe dover fare a meno di Andrea Rigoni per la gara interna contro il Monopoli. Problema alle costole per il centrocampista ex Lecce, che dopo aver stretto i denti con Renda e Viterbesi adesso sembra in fortissimo dubbio per il match di sabato pomeriggio contro i bianco-verdi pugliesi. Dunque il suo posto sarà preso da Viero, che nelle ultime partite aveva avuto poco spazio e che adesso invece dovrebbe partire dal primo minuto. Nella seduta di allenamento di ieri è assente anche Minelli, che però non dovrebbe avere particolari problemi tali da impedirli di giocare contro i pugliesi. Davanti dovrebbe essere confermata la coppia formata da Magnaghi e Bombaggi, mentre insieme a Viero giocheranno Santoro e Ilari, che torna dall'avvio dopo l'esperimento Mungo, che al Rocchi non ha giocato una grande partita, ma che potrebbe essere spostato qualche metro più avanti nel caso in cui Tedino decidesse di dare un turno di riposo ad un Costa Ferreira che è in fase di leggera flessione. E questo sarà un dubbio che il tecnico si porterà dietro fino a domani mattina, quando ci sarà la seduta di rifinitura. In difesa torna Piacentini accanto a Soprano, il giovane classe 99 prenderà il posto di Cristini, che invece andrà a sedersi in panchina. Sul fronte Monopoli invece è confermato il 3-5-2 classico di Mr. Scienza, con Donnarumma e Tazzer che dovrebbero giocare sugli esterni, e che nella gara di andata misero in grossa difficoltà il diavolo. Al centro ci sarà Giorno con Piccini e Carriero da interni, e poi la coppia da venti reti, formata da Fella, vice capo cannoniere del Girone Cinzia, ma l'ex Jefferson. Gara da vincere assolutamente per il Teramo, che deve cancellare la battuta d'arresto di Viterbo e confermare che al Bonolis il diavolo è una certezza. Questo per mantenere quel settimo posto che allo stato attuale, oltre a garantire la qualificazione ai play-off, assicurerebbe al Teramo il primo scontro diretto in gara unica, proprio sul terreno di gioco amico. Per questo sarà un anticipo molto interessante, una delle migliori squadre con rendimento interno, contro quella che ha avuto il miglior cammino esterno. Gara in programma sabato pomeriggio alle ore 18, arbitra Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Mattia Massimino della sezione di Cuneo e Claudio Gualtieri della sezione di Asti.